Eccoci qua, torniamo a parlare di fotografia questa volta con Ivan di Lab02. Ciao Ivan! Allora diciamo subito al pubblico di Wedding Time TV, dove si trova il tuo studio? Allora il mio studio è a San Giovanni in Persiceto, in piazza Guazzatoio 3, ma abbiamo anche due sedi distaccate, una a Carpi e una a Rimini. Allora Ivan, parliamo invece del tuo lavoro, entriamo un po' nel vivo. Come nasce questa passione, come è cresciuta e come ti approcci al mondo del matrimonio? Allora per noi il matrimonio è qualcosa che deve rimanere molto informale, molto naturale, spontaneo, quindi non siamo più i fotografi che mettono in posa per tutto il giorno gli sposi. Seguite gli sposi dall'inizio alla fine della giornata? Sì, dalla preparazione e per tutta la giornata matrimoniale e siamo sempre in due per garantire sempre un risultato ottimale. Un'altra curiosità, so che vi spostate anche in diverse zone d'Italia per lavorare, forse anche fuori, corregimi se sbaglio. Sì, siamo disponibili per viaggiare sia in Italia che all'estero, abbiamo già fatto diverse date a Palermo, a Napoli, a Damalfi e ovunque in Italia. Facciamo conoscere Ivan a chi ci segue da casa il vostro prodotto, il vostro lavoro e i vostri servizi, come lo definisci? Allora, il prodotto è innanzitutto molto giovane, molto nuovo e spontaneo. Come ti dicevi, proponiamo diverse novità in fiera, come ad esempio lo stop motion e insieme allo stop motion, per esempio, il sito degli sposi, così come le partecipazioni. Ma spieghiamo cos'è lo stop motion a chi ci segue da casa, perché secondo me è un termine un po' particolare e molto innovativo, mi sembra. Lo stop motion è una tecnica di animazione che è presente anche in un esempio sul nostro sito, su www.lab02.com ed è un'animazione come quelle che fanno a livello cinematografico registi come Tim Burton, per esempio. Ho capito, spero che abbiano capito anche i nostri telespettatori, se non l'hanno capito sapete chi dovete contattare, l'ab02 Ivan. Ascolta Ivan, come metti a tuo agio i tuoi futuri sposi? Oggi sei tu dall'altra parte della telecamera, tu invece come fai? Non è facile, mi rendo conto, però innanzitutto si instaura un rapporto molto cordiale e poco formale anche con gli sposi e questo li mette sicuramente a proprio agio. In più il nostro stile li aiuta perché appunto non richiamiamo la loro attenzione di continuo, li lasciamo vivere la loro giornata e noi riprendiamo quello che succede. Prima di salutare il nostro pubblico mi dicevi anche che voi siete uno staff a tutto tondo. Sì, siamo in grado di gestire più date contemporaneamente e quindi riusciamo a fare più matrimoni nello stesso giorno. Bene, direi che da Ivan e da Lab02 è tutto, salutiamo i telespettatori di Wedding Time TV, ringraziamo Bologna si sposa, edizione primavera e Palazzo Bergati. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao!